La Maserati danneggia la piazza di Spagna e quando danneggia la scalinata di Trinità dei Monti qui c'è il danneggio e ora guardiamo il video di questo matto so entra ok continua le scale continua e lo rifanno vedere da un altro angolo ok faccio una accorciatura si si arriverò più presto si a questo punto ancora non l'ha capito che non ce la fa ma io guido la Maserati dovrebbe essere facile per prendere le scale e dopo si vede è uscito ma che che devo dire amici che devo dire spero che vi avete fatto una risata che me l'ho fatto pure io ciao 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 ciao